Ciao gentaglia, sono ShutaHateYou e questo è Breaking Italy, lo show che viene andato da lunedì al venerdì, nel quale parliamo di cosa succede nel mondo. Iniziamo con una correzione e anche con una smentita ufficiale che è arrivata rispetto a una notizia che ho trattato ieri, ovvero quella che vedeva Google interessata all'acquisto di Whatsapp per la cifra di un miliardo di dollari. Io invece ho detto un milione di dollari che sarebbe ovviamente pochissimo per un'azienda di questo tipo, fortunatamente alcuni di voi sono andati a controllare, ma in realtà la cosa non è nemmeno così importante perché oggi ai microfoni dei giornali il capo della divisione business di Whatsapp ha fatto sapere che l'azienda non è in realtà in trattative con Google e non ci sono né milioni né miliardi sul tavolo, quindi questo. Altra notizia flash che sicuramente tutti voi hanno sentito, ma mi sembrava giusto comunque almeno citare questa cosa perché è molto importante. All'età di 87 anni, ieri è morta per un infarto, si presume, Margaret Thatcher, la famosissima lady di ferro, che è stata primo ministro del Regno Unito dal 79 al 90, ed è fantastico vedere le reazioni delle persone alla morte di questa persona. Margaret Thatcher, infatti, non ha soltanto completamente distrutto la spessissima barriera di genere che è presente specie nel mondo della politica ancora oggi, quindi figuriamoci nel 79, una donna premier, tra l'altro è stata la prima donna in assoluto a ricoprire quella posizione in Gran Bretagna, noi non abbiamo nemmeno mai avuto un primo ministro donna. È stato appunto anche un leader molto molto forte, le quali decisioni fortemente conservatrici, perché Margaret Thatcher faceva parte di quell'area politica, hanno influenzato non solo la fortissima economia britannica, ma le economie di tutto il mondo. E facendo questo si è fatta anche molti nemici, così tanto che una parte dell'opinione pubblica ha gioito, il che è quasi paradossale, all'apprendere della morte della donna. Devo dire che comunque, a prescindere dai giudizi sulla sua politica, è stata sicuramente un modello di leadership e un modello di donna al potere al quale aspirare. Quindi adesso sapete anche questo, anche se lo sapevate benissimo anche prima, ma facciamo finta che l'abbiate appreso adesso, così possiamo andarcene dalla Gran Bretagna, per ritornare nel 2013 e spostarci in Francia, dove è successa una cosa fantastica, più o meno in Francia in realtà, perché parliamo di Wikipedia, la versione francese di Wikipedia, e di un tentativo di censura dell'intelligence francese ai danni di Wikipedia, che poi è andata male. Cosa è successo? Tra le varie pagine di Wikipedia, ce n'è una relativa a una base militare francese, che funge da stazione radio, una semplice pagina che, aggregando le varie notizie che si possono trovare sui vari media, perché questo è quello che fa Wikipedia, prende le notizie da tutti i posti e le aggrega e crea una pagina, questo gesto mi rende incredibilmente autorevole, ritenuta improvvisamente dall'intelligence francese, scomoda, nel senso che divulgherebbe dati che sono prodetti da segreto nazionale. Quindi viene richiesta la cancellazione della pagina da parte dell'intelligence, che non ha i mezzi di farlo a prescindere, quindi si deve rivolgere agli amministratori, slash agli utenti che hanno questa possibilità, e quindi scrive a questi utenti che rispondono quale parte esattamente di tutte le cose che ci sono scritte nella pagina sono segrete, quindi non potrebbero essere divulgate, ma l'intelligence non risponde a questa domanda e chiede di nuovo la cancellazione della pagina, al che gli viene risposto picche. E da qui inizia la quarta fantastica della storia. Cosa decidono di fare gli 007 francesi? Fanno delle ricerche e scoprono un utente a caso in Francia che è molto attivo su Wikipedia e ha la possibilità di cancellare delle pagine. Lo prelevano e lo obbligano a cancellare quella pagina, nonostante lui cerchi di spiegare che Wikipedia non funziona così. Comunque non fa niente, lo obbligano minacciandolo di repercussioni illegali e l'uomo cancella la pagina. Quindi tutti gli altri utenti si accorgono della cancellazione della pagina e la cosa diventa nota a tutti. Quindi un altro utente rimette la pagina su perché è così che funziona Wikipedia, è una comunità che decide cosa fare. E non solo, visto che gli utenti della rete si rendono conto che il governo sta cercando di cancellare questa cosa, la pagina viene tradotta in un sacco di altre lingue, infatti c'è anche la versione italiana ora, è proprio quella pagina di Wikipedia che prima non si cagava a nessuno perché alla fine a chi interessa una stazione radio militare viene visitata in pochissimo tempo più di 45.000 volte. Quindi un lento applauso a chi ancora non ha capito come funziona il mondo di internet che non è stato creato ieri, c'è da un po' di tempo, quindi informarsi non sarebbe così male. E andiamo avanti alla prossima notizia. Che sembra qualcosa di reale, viene dall'Argentina dove salta fuori esistere un commercio molto florido di cani barboncini puro razza. Ora non so quanti di voi lo sappiano, ma i cani puro razza costano molto, possono arrivare a costare anche 1.000 dollari, slash 750-800 euro. E non importa la grandezza del cane, importa la purezza del cane. E il barboncino puro non fa eccezione. Ma in Argentina è possibile pagarlo anche soltanto 75 dollari. Perché? Hanno molti barboncini puri da vendere? No. Semplicemente, e scopriamo questa cosa per la denuncia di un uomo che è imbrogliato, ne ha comprato due, ti vendono dei ratti al posto dei cani. In realtà stiamo parlando di una particolare versione del furetto, un roditore abbastanza grande, che spesso in Argentina verrebbe catturato è con delle iniezioni di ormoni trasformato in un barboncino. Per intenderci, questo è un barboncino, questo è un fake barboncino. Ora, io non capisco come questa cosa sia possibile. Cioè non ti rendi conto che stai comprando un topo? Perché anche se poi lo modificano con degli ormoni e gli fanno i peli così e gli rasano in modo particolare, sempre di topi si tratta. Il topo corre come un topo e salta come un topo e fa un suono da topo. Ed insomma, lo dico per chi non se ne fosse accorto, un animale completamente diverso rispetto a un cane. Però, apparentemente, questa cosa è reale. Conseguentemente, se avete intenzione di comprare un barboncino, evitate di comprarlo magari in Argentina, magari da una persona che vi chiede 50 euro. E soprattutto, se per andare a prenderlo, dovete andare nel suo negozio. E quando dico suo negozio, intendo dire un piccolo buio alla periferia della città, con senza tetto addormentati e fumo che esce dai tombini. Avete presente quel fumo che esce dai tombini nei film? Io non ho mai capito perché questa cosa debba succedere solo nei vicoli. Oppure, ancora meglio, usciamo da quest'ottica di voglio il cane che costa 1200 euro e adottiamo dei meticci che magari hanno bisogno di una casa e sicuramente sono altrettanto adorabili. Come il mio cane, che probabilmente è di là che fa la cacca dappertutto. Adorabile. Prima di passare agli ultimi due segmenti di oggi, blam, eccovi l'alfiere della gentaglia di oggi. E Francesco è appena deciso di farci sapere di aver appena scoperto Minecraft per iPad. Versione di Minecraft che peraltro io non ho mai giocato, fortunatamente, perché mi ci manca solo quello in giro a giocare a Minecraft. Comunque, grazie Francesco, sei il nostro alfiere per oggi e rimani qui su Breaking Italy perché potrebbe esserci una notizia che interesserà a te e tutti gli altri maschietti della gentaglia, compreso me. Peraltro trovo fantastico che vediate quell'immagine alle mie spalle mentre parlo. Uno studio ha mostrato che sì, effettivamente, la storia del non è importante quanto è grande e importante come lo si usa potrebbe non essere al 100% vera. Infatti, un articolo su Science mostra i risultati di una ricerca fatta in merito intervistando campioni di donne molto vari in molti aspetti, compresa l'età, ed è stato mostrato loro delle immagini di uomini nudi e vestiti, chiedendo poi loro quali trovassero più attraenti e quali trovassero meno attraenti. E ci si è resi conto che incrociando poi tutti questi dati, la grandezza del pene è una cosa che veniva tenuta in considerazione anche se in modo inconscio. Infatti, nessuna delle donne ha detto trovo attraente a questo rispetto a questo perché ha il pene di dimensioni più grandi, ma semplicemente ci si è resi conto che quella era una delle cose che più veniva valutata, ma non la prima che veniva valutata anche perché se ci pensiamo nella società nessuno, a meno che non viviate in qualche posto curioso o nella vostra zona ci sia appena stata una carenza incredibile di pantaloni, è in grado camminando per strada incontrando qualcuno di vedere i pene altrui e quindi scegliere il proprio compagno in base al pene. Infatti, una delle cose più influenti e nelle quali io sono brutalmente carente è l'altezza. Ma non solo, anche la figura del corpo dell'uomo sarebbe molto importante. Esattamente infatti come un uomo osserva le figure di una donna, una donna osserva le figure di un uomo e gli uomini più fortunati in tal senso sarebbero quelli che hanno il torace più largo rispetto alla vita e che quindi hanno un corpo diciamo a V. Quindi, non così, ma così. E quindi, oh mio Dio, ci serviva proprio uno studio scientifico per sapere questa cosa. Comunque vi lascio lo studio in descrizione perché voglio smettere di parlare di pene, tipo subito. E l'ultima cosa che volevo trattare oggi è una notizia che è arrivata in Italia un paio di giorni fa. Infatti io l'ho letta un paio di giorni fa, però alcuni di voi me l'hanno rilanciata dicendomi che avrei dovuto parlarne perché è importante. E quindi, gentaglia, visto che la pensate così, forse mi avete convinto. Cerco di dare visibilità a questa cosa. La polizia della Gritter Manchester, l'area vasta della città, ha varato un nuovo regolamento interno della polizia stessa che equipara a crimine d'odio le discriminazioni verso persone diverse esteticamente. E non parlo di razze e di etnie. Quelle sono già crimini d'odio. Se tu odi una persona per il suo colore della pelle ed esterni quest'odio in modo violento, in modo discriminatorio, sei punito per crimine d'odio. Parlo invece, ad esempio, di gott, di metallari, punk, emo, e di tutte quelle sottoculture tipicamente giovanili che vengono spesso bersagliate da altrettanto odio. La discriminazione verso queste persone è un crimine razziale adesso. Almeno secondo il regolamento della polizia, che non è moltissimo, però è qualcosa. La decisione viene dopo la mobilitazione della Sophie Lancaster Foundation, che è una fondazione che fu creata nel 2007 dopo Sophie, una ragazza che fu uccisa nel 2007 da un gruppo di adolescenti una notte che non gradiva il suo abbigliamento. Io sono contentissimo di chiudere il Breaking Italy di oggi con questa notizia, perché uno, è bellissimo vedere che da qualcosa di bruttissimo come la morte di una ragazza a seguito di una cosa così stupida come la discriminazione per l'aspetto esteriore, perché oddio, sei vestito in modo diverso, dobbiamo essere violenti verso di te perché siamo stupidi, possa nascere qualcosa di positivo e possa nascere dal basso, ovvero persone che si mobilitano e alla fine, dopo molto tempo, perché parliamo di sei anni di mobilitazione, sono in grado di avere un risultato anche piccolo come questo, che poi tanto piccolo non è, perché adesso che la polizia prende una posizione su questo, si aspetta che il ministro alle pari opportunità britannico dica qualcosa. E io volevo chiedere ora a voi, Gentaglia, ovviamente, cosa ne pensate? Credete che sia troppo? Credete che sia poco? Pensate che sia giusto che la legge tuteli le persone semplicemente per la loro razza o le tuteli anche per delle scelte che possono fare, che sono scelte religiose, ad esempio, ma anche soltanto estetiche in questo caso. Quindi in soldoni, se decido di riempirmi di borchie, è giusto che la legge mi tuteli nel caso poi io venga discriminato e spesso soggetto a violenze? Fatemi sapere nei commenti. E questo è tutto quello che avevo da dirvi per oggi, Gentaglia, grazie per aver guardato. Io sono Shooter Hates You, questo era Breaking Italy che torna domani alle 18. e questo è tutto.